Piccole, micro, piccole e medie imprese sul territorio lombardo è ancora in vigore da tre anni, si chiama Credito Adesso e permette anche qui di poter anticipare non le fatture ma addirittura i contratti. Quindi ho degli ordini, dei contratti, posso anticiparli, sono dei fondi della Banca Europea di Investimenti tramite la Regione, questo è molto interessante, funziona molto bene, in 60 giorni ottengo un mutuo su questo valore di contratti che devo rendere in 36 mesi con rate semestrali, tassi che vanno su un mutuo... Un anticipo delle ricevute bancarie? No, no, sul contratto. Ah, solo sul contratto. Perché dopo la fattura viene emessa, viene emessa la ricevuta bancaria, fa il suo corso, io perché ho dei contratti, degli ordini, posso anticiparli. E qualora non venissero pagati? No, no, si accetta il rischio del... Ah, quindi chi è accetta il rischio del... Accetta il rischio, dopo la fattura viene emessa, quello ha tutto un suo iter, ma se succede qualcosa nel contratto c'è la possibilità di recuperare. Sì, va bene, ma c'è un'analisi fatta come un'analisi di credito. Due soggetti, le banche che hanno aderito e la Regione. La Regione mette il denaro della BEI per il 40%, la banca per il 60%. Si chiama cofinanzamento. La Banca Europea di Investimenti, in tutti gli stati dei membri, cofinanza, dice, io ci metto una parte e tu ci metti l'altra. Noi come Italia siamo il secondo socio della Banca Europea di Investimenti. Diamo denaro, siamo il secondo, eh? Quindi questo denaro va riempiegato sul territorio. Approfittiamo... Quindi almeno su questo non siamo gli ultimi della classe. No, non siamo gli ultimi della classe, il banco è l'ultimo in fondo, no. Molto importante. Anche per le micro e piccole imprese. Fino a 45 mila euro di mutuo, senza ordini. Quindi la Regione non vuol sapere neanche, non vuol vedere neanche il pezzo di carta dell'ordine. Perché ci sono piccole aziende che, per abitudine, una mail, una telefonata, penso artigiani, piccole aziende di 3-4 che non hanno ordini. Quindi fino all'importo di 45 mila euro posso avere questo mutuo. E va a capitale circolante dell'impresa. Molto importante questo aspetto. Qui lo rendo in tre anni, con rate semestrali. Quindi l'analisi del contratto dell'azienda e i tempi sono 60 giorni. Una volta fatta l'analisi, inserita la pratica, l'azienda va presso la sua banca a firmare l'atto di mutuo. Ma è qualcosa che è in fase embrionale o sta già funzionando da tre anni? E funziona. Abbiamo assistito aziende più svariate. Si possono fare mutui fino a 750 mila euro. La capacità di rimborso ovviamente è di un'azienda più strutturata, più grande, più infatturato. Ma anche piccoli mutui da 45 mila, da 20 mila, da 18 mila, 50 mila, 70 mila. Aziende che hanno trovato una boccata di ossigeno, hanno fatto investimenti, hanno portato a casa quello che era, incassato il contratto. Sono come delle piccole banche private, insomma. Questa cosa qui è della Banca Europea di Investimenti, fatta sul territorio Lombardo, per imprese residenti da almeno 24 mesi, quindi aperte da almeno due anni, sul territorio Lombardo. Si chiama credito adesso, funziona molto bene e dà ossigeno al territorio. Queste sono le cose da utilizzare. Ma le nostre aziende Bresciano lo stanno usando? L'hanno usato, lo usano. Si può, una volta fatto uno, se ne può fare un altro anche. Se ci sono la capacità di poter rimborsare, si può accedere nuovamente. Interessantissimo. È una cosa buona, a prescindere da che uno la veda. Questo aspetto qui di dare questo polmone di ossigeno alle imprese. Usiamo, c'è un bel libro che dice, usa ciò che sei. Usiamo quello che c'è.